buongiorno a tutte e a tutti da salvo russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo e tragitto che mi vado ad andare verso il mio posto di lavoro verso il mio negozio un'attività informatica siracusa nel 1999 e chiunque le sani mi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9 e 30 alle 13 e dalle 16 e 30 alle 20 sabato solo mattina la domenica chiuso per riposo settimanale oggi cos'è giovedì 29 dicembre 2022 ci siamo ultimi giorni e ci apprestiamo a passare questo fine anno devo dire da un punto di vista lavorativo molto intenso con tutta una serie di belle anche soddisfazioni perché quando io riesco nel mio lavoro a eccellere sono molto contento anche perché quando io diciamo eccello molto probabilmente c'è qualche cliente che esce da una problematica enorme quale potrebbe essere la perdita di dati ieri ho fatto anche un post apposito dove mi sono preso i meriti per il lavoro poi che gli altri mi considerano come uno dei migliori sulla piazza nel data recovery questo io sono solo contento allora fortunatamente c'è il mio lavoro sicuro che mi dà grandi gratificazioni perché se dovessi vederla da un punto di vista politico amministrativo questa città sarebbe da abbandonare fare le valigie andare via come qualcuno dottorando ogni tanto mi dice analizziamo ma di cosa stiamo parlando ma intanto da dove ci siamo lasciati ieri situazione politiche sociali con questi famosi voucher minori ieri alla fine alla quarantesima telefonata sono riuscito a rintracciare il responsabile la quale poi mi ha detto che il dirigente non c'era l'assessora chissà vedremo faremo diremo il classico io ieri non ho ricevuto nessuna email per cui come anticipato ieri e oggi contatterò le persone che già hanno diciamo manifestato l'interesse nei nostri progetti e li inviterò a fare altro così rimangono due giorni a meno io voglio evitare brutte figure con i cittadini l'altra alternativa sarebbe quello di fare un esposto un ennesimo esposto però sinceramente quando poi c'è di mezzo anche il mio lavoro io perdere del tempo sinceramente già ne ho poco di mio puoi rincorrere questi signori qui dipendenti pubblici ma perdere di tempo e tra l'altro io li esposti già in procura li ho fatti io aspetto oramai quasi un anno manco l'archiviazione è arrivato pensate vabbè vedremo 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 allora dicevo oggi noi facciamo un passo indietro definitivo ho cercato di risolvere chiedendo ufficialmente una risposta a mezzo pecca a mezzo mail ma ovviamente il gioco è quello di non darci risposte la risposta arriverà al primo giorno utile quindi sicuramente il 2 dicembre ci diranno no potete procedere ma scusate mentre mi esco il 31 gennaio perché non avete risposto nei 7 giorni precedenti 8 giorni precedenti sapete come funziona la burocrazia la politica poi figurate io sono una persona molto antipatica ma pensate se rispondono bene vabbè andiamo avanti con le buone no non ci sono buone notizie allora ogni volta che entro nel laboratorio del comune di Siracusa ho un bagno di sangue scusate il francesismo c'è davvero viene il disgusto da cosa iniziare ma vi ricorderete un paio di giorni fa feci la battutaccia che se quest'anno professionisti del territorio siracusano non avessero avuto contributi avrebbero dovuto farmi una statua ma ovviamente il mio era uno scherzo parliamo di decine di migliaia di euro di noccioline anche i 500 anche i 2000 anche i 2005 il contributo per fare adesso non mi ricordo il termine tecnico comunque per fare propaganda istituzionale al comune di Siracusa a questa a quella a quella testata e poi qualcuno si meraviglia mi dicono ma perché le tue notizie comunicati stampa del comune di artisti siracusani io non lo leggo da nessuna parte se non sul tuo blog piuttosto che sul tuo profilo facebook e sui corsi social è ovvio quando una testata giornalistica è a libro paga di chi poi gli dà i soldi va da sé non c'è bisogno di qualcosa di scritto hanno ricevuto ordine di non reclamizzare assolutamente nulla di quello che facciamo noi non che mi interessi più di tanto perché ripeto io vivo dal mio lavoro i soci del comune di artisti siracusani sono persone indipendenti politicamente indipendenti non ce ne può fregare di meno di queste robe qui di questo sistema affaristico io lungi da me cercare di entrare in queste robe qui anzi al contrario io quando vedo queste cose in una città abbandonata a se stessa dove si spendono si accendono mutui per milioni di euro ma la città è scassata si sistemano due vie con i soldi pubblici ovviamente però poi abbiamo le strade più scassate d'Italia illuminazione a sigliozzi e tutta una serie di spendi e spandi ma ripeto una città invivibile dice ma perché rimani perché non te ne vai ma io ho mio figlio qui non ho nessuno ho la mia attività qui da oltre vent'anni per cui non si interessa ad andare via oramai ci ho fatto il callo potrei isolarmi tecnicamente perché non mi interessa più di tanto avere rapporti con le istituzioni da anni oramai non lavoro più con gli enti pubblici per cui la mia scelta personale anche perché una volta lavoravo con l'asp poi mi arrivò un giorno va bene lasciamo perdere mi arrivò comunque sì i pagamenti dell'asp erano a 360 giorni fino a mese per cui decisi di non anticipare più lasciamo perdere troviamo un po' le cose mie personali lavorative non voglio annuigare nessuno poi dicevo un bagno di sangue contributi a pioggia ma io chiamo professionisti comunque professionisti contributi a pioggia affilamenti diretti ad associazioni per eventi spettacoli e là anche botte di cifre non indifferenti dai 3.000 euro ai 15.000 euro e giù di lì ai 20.000 euro cioè io l'ho chiamato come chiamato assalto alla dirigenza e poi trovi magari una determina dove c'è un prelevamento dal fondo straordinario che io lo chiamo fondo che se è comune perde una causa deve risarcire e trovi una cosa particolare dove è stato fatto un esproprio per crearci un asilo credo sia zona mazzarona una persona che ha un pochettino ha detto che legge le carte sa benissimo che zona mazzarona ci sono tantissimi appezzamenti di terreno del comune di Siracusa e ti pone la domanda perché il comune di Siracusa abbia fatto un esproprio a un privato adesso perché c'è la sentenza del TAC vince mora della fauna e il comune di Siracusa perde la causa deve tirare fuori adesso il mio cotto se è 68.000 o 88.000 euro dall'aria privato per un terreno proprio spoglio con tanti terreni che il comune di Siracusa aveva questo è qualcosa di geniale Andreotti diceva che a pensare male è peccato ma spesso ci sia zecca io potrei anche pensare male e pensare non lo dico perché questo è correlabile per cui meglio non lo dico la cosa mia bellissima è che io quando mi muovo mi muovo con le carte per cui alcune cose che potrebbero sembrare correlabili tecnicamente non lo sono perché io riporto i dati macroscopici nei documenti negli atti pubblici per cui tutto producibile screenshot producibili per cui però mi arrabbio spero che vi prossimo poi mi invito ad entrare in piazza Siracusa che è la chat whatsapp che ho realizzato dove ieri sono dovuto entrare a gamba tesa perché c'era una persona che tra l'altro non so assolutamente chi sia diceva ma sai io l'attuale amministrazione la voterei e io gli ho detto guardi io personalmente non so chi lei sia ma non me la posso raccontare di meno però guardi chi ha bloccato il volontariato civico di Tappami che gratuitamente metteva in sicurezza buche chi si sottopone ad affidamenti diretti senza bandi pubblici io parlo sia del pubblico che anche del terzo settore cioè aziende che fanno eventi spettacoli e quant'altro ma parlo anche di associazioni del terzo settore senza bando pubblico affidamenti diretti secondo me sono dei criminali perché oggi che un comune è sul piede del default se domani mattina vaga a gamba all'aria io questi signori qui li chiamerei in causa tutti e digli guarda il comune Siracusa è in default perché tu hai preso questi soldini qui perché tu non eri censito a latare perché tu sporcavi la città e vedete quando poi tutte queste cose le vai ad assumere fai la somma ti trovi Siracusa nel 29 dicembre 2022 città dissestata città abbandonato quando ieri ho rimproverato un mio mio amico dicendo che lui sostiene che la città è sporca perché siracusane la sporcono la città è sporca perché delinquenti la sporcano delinquenti appoggiati da delinquenti amministratori perché se un amministratore facesse il suo dovere di andare a sanzionare di fare le multe di in maniera coatta cercare di recuperare delle risorse dopo che tu hai sanzionato ma non fanno nulla di tutto questo perché questi signori qui cercano i voti non solo non fanno questo non fanno attività di andare a a evitare gli abbandoni dei rifiuti come fanno altri comuni io vedo ogni tanto i comunicati stampa di cos'è il sortino di avola di rosolini siracusa o no tranno qualche spot pubblicitario della foto non fa nulla io non vedo nel laboratorio come siracusa pubblicati in maniera non sensibile i dati oggi abbiamo puntato salvo russo perché ha lasciato un bc accanto al cestino io non le vedo sta roba qui perché è impopolare perché il prossimo anno in questa città si vota e questi signori qui attuali amministratori si stanno ricandidando a gestire nuovamente per altri cinque anni questa città e questo è scandaloso io sono davvero arrabbiato ma perché non ti candidi tu io vivo del mio lavoro io posso dare una mano ma non mi posso candidare io non ho tempo da perdere in campagne elettorali io darò una mano a chi saranno i prossimi candidati sindaco o sindaca che vorranno realmente fare un cambiamento in questa città ci metterò la faccia sicuramente darò insieme al comitato di Sisiacusani il nostro supporto a quei candidati e candidate che meriteranno il nostro supporto sottoscrivendo con noi un documento come invece Berlusconi la firma cosa era la il contratto con gli italiani io però non faccio uno Berlusconi a scendemolire perché personalmente io mi occupo di altro non ho tempo voglia e passione non ho neanche l'età oramai che comunque sia anche se io dichiaro di avere 18 anni adesso siamo sui 47 e io a 47 anni mi devo occupare di mio figlio mi devo occupare della mia azienda posso dare una mano nella mia città ma sicuramente non mettendo il mio nome in una lista perché non sarebbe neanche coerente con quello che ho detto in questi anni una volta lessi un post di un signore che scrisse perché non ti canti un bell'articolo tanto se lo cercate su google lo trovate perché non ti canti un po' quello che ho detto io adesso solo che io lo dico da anni lui ogni tanto lo rispolvera un'altra volta sta roba qui ognuno fa le sue proprie cose in base alle proprie competenze io penso di avere il know how in questa città unico ripeto posso mettere a disposizione il mio know how di come risolvere le problematiche dei nostri progetti e delle nostre iniziative ci siamo ma non di candidata anche perché ripeto non ho il tempo la voglia di fare politica non è roba mia ripeto non c'è più il tempo va bene me la vado a lavorare va bene ripeto l'abopratorio è un continuo susseguissi di cose atroci di cose davvero che ti fanno arrabbiare però presto inizieremo a fare i corsi diversi cittadini mi hanno chiesto di partecipare probabilmente faremo delle pillole magari su telegram vediamo un pochettino perché molte persone sono incuriosi da questo io capisco che molte persone anche perché ripeto appunto il prossimo anno si vota sono interessate da un punto di vista amministrativo capire come funzionano i termini di passaggio va bene me ne vado a lavorare buona giornata a tutta e a tutti a salvo lusso ciao